Qualche mese fa, a Istanbul, all'indomani di un colpo di Stato militare, incontrammo Demirtash, il leader dell'HDP. Era iniziata una lunga stagione di epurazioni. Pensate, in quel Paese, 106.000 trammagistrati, dipendenti pubblici, giornalisti, arrestati o espulsi dai loro luoghi di lavoro. E poi quel partito decimato, 20 deputati, 90 sindaci, 7.000 militanti politici. Questo ci dice oggi che celebriamo una festa della democrazia, che la democrazia non è mai un dato acquisito. E che, come ci ricordava ieri Massimo D'Alema, l'Europa dovrebbe avere una maggiore consapevolezza di sé, del proprio ruolo, della propria storia. Quando stipola accordi sull'immigrazione e sul commercio, con democrazia e i propri confini, che si trasformano in dittature. Oggi, parlando di quei deputati arrestati in carcere, ci torna alla memoria chi, 80 anni fa, scrutava da un carcere di Turi quel mondo grande e terribile, che di lì a poco sarebbe entrato in una guerra sanguinosa e a cui giudici fascisti avrebbero voluto spegnere il cervello per vent'anni. Quel cervello funziona ancora. È la bussola per la quale esistiamo e attraverso la quale ci muoviamo. Provo una certa tenerezza per chi di fronte a qualche inchiesta o a qualche giornalista scomodo parla con un'insostenibile leggerezza dell'essere di rischi per la democrazia o addirittura di disegni eversivi. Anche perché poi c'è sempre qualcuno più realista del re che finisce per applicare questi precetti e vieta una trasmissione satirica di accreditarsi a un convegno. Quando un partito che sta al potere e che governa se la prende con l'umorismo c'è sempre un po' di puzza di regime e noi diamo la nostra solidarietà agli amici di gazebo. Ieri abbiamo visto sfilare alcune decine di migliaia di persone per le strade di Milano. Un messaggio chiaro e semplice. La declinazione massima della parola sicurezza si chiama accoglienza. Basta prendere tra le mani la cartina dell'Europa per rendersene conto. I muri sono diventati l'autobiografia del nostro tempo. I capitali non hanno barriere, gli uomini tornano ad avere delle barriere e dei confini. Guardiamo in faccia la realtà. La destabilizzazione del Medio Oriente, mezzo milione di morti in Siria, le armi che circolano più del cibo e dell'acqua. I cambiamenti climatici sono la causa di potenti migrazioni, non le organizzazioni non governative. Gino Strada diceva ieri «Basta prendere la foto di un bimbo sul barcone e incollarci la foto di tuo figlio, poi sarà facile capire». Lo dico a Salvini e al neofrancescano Di Maio. Sono orgoglioso di vivere in un paese che ha promosso la missione Mare Nostrum. Prima salvo una vita e poi consulto il codice penale. Perché nessun uomo è illegale. Ma i seminatori d'odio purtroppo fanno proseliti, rompendo argini e conquistando nuovi adepti. Sono settimane che assistiamo a un dibattito surreale sulla legittima difesa. Si dice che la legge non serve a nulla, ma la percezione conta più della realtà. Sarò ingenuo, ma sono portato a fidarmi dei dati del Ministero degli Interni. Meno 21% di omicidi, meno 23% di rapine in abitazione, meno 13% dei furti anni. Anno 2016. Qualche settimana fa il prefetto di questa città ci raccontava della moltiplicazione delle richieste di porto d'armi ad uso privato, venatorio e sportivo. Un vero e proprio boom. Più del 30% in tre anni. Sembra che il nostro Paese voglia armarsi. E il legislatore cosa fa? A seconda questa esigenza, compresa la gara a chi la spara più grossa. Sbaglierò, ma temo che le magliette gialle abbiano il fisico un po' più debole delle camicie verdi. E gli elettori tra una copia e l'originale si fidano sempre dell'originale. È così da sempre. Perché il sentimento di insicurezza è una gramigna dura da estirpare e il bisogno di protezione non si combatte rinunciando ai propri principi. E oggi il principale antidoto all'insicurezza si chiama sapere. Si ha ragione l'Istat quando ci dice che il dualismo principale torna a essere quello tra chi sa e chi non sa, non è accettabile che un ministro della pubblica istruzione faccia la bella statuina davanti alla notizia che il provveditorato agli studi di Caserta il prossimo anno non garantirà l'apertura di 90 istituti scolastici, come ci dice Susanna Camus. Perché? Perché in condizioni di insicurezza per gli studenti e per i docenti. Bersani ieri diceva che i due temi della scuola si chiamano didattica e abbandono. Non si può, nella terra dove la camorra è ancora troppo spesso un sostituto dello Stato, lasciare per strada migliaia di ragazzi, incentivando la dispersione scolastica e incentivando il reclutamento della criminalità organizzata. Guardiamo l'Italia, anche un po' con le lenti del mezzogiorno. 25 anni fa il tritolo faceva saltare Falcone la sua scorta. 25 anni fa finiva il nostro secolo breve e una generazione usciva dall'adolescenza e conosceva l'impegno politico. Oggi torna il tema drammatico di liberare il Sud dal gioco delle mafie. Ci sono alcuni dati che dovrebbero essere fissi nella mente di chi governa il Paese. 70% di giovani a casa, 600.000 posti di lavoro persi nella pubblica amministrazione in dieci anni, 50% dei laureati del Sud che va via. Alcune delle nostre proposte devono diventare l'ossatura di un nuovo programma di governo. Sblocco del turnover. Per ogni lavoratore che va in pensione, un giovane laureato diplomato entra. Mezzo punto di PIL per un programma di piccole e piccolissime opere di manutenzione del territorio. 8 miliardi all'anno per tre anni. Il Sud come piattaforma della transizione ecologica e solidale. Diamoci un obiettivo. Entro vent'anni 100% di energie rinnovabili. E poi, la dico così, aperti a discutere al reddito di dignità. Ma per noi il tema è il lavoro di ultima istanza. Quando il mercato non ce la fa, deve arrivare il pubblico. E infine, guardiamo a pochi chilometri da qui, K-Flex, quello che è successo. Un'azienda sana che ha preso finanziamenti pubblici alla Cassa Depositi e Prestiti, 187 persone licenziate. Una proposta semplice, riformista e moderata. Restituiamo quei soldi alla comunità. Quelle imprese devono restituirle. E quei soldi vanno in un fondo per riattivare il lavoro. Noi non useremo mai le intercettazioni come strumento di lotta politica. Non guardiamo romanzi familiari dal buco della serratura. La famiglia dovrebbe riguardare la dinamica degli affetti, non quella degli interessi. Combatteremo sempre la commistione tra politica e affari, tra pubblica amministrazione e capitalismo parassitario. La questione morale non è una questione di manette. Esplode quando viene meno l'autonomia della politica, dalle lobby, dalle banche e dalla finanza. Per questo chiediamo a Maria Elena Boschi di venire a riferire in Parlamento. Non scappare dal confronto parlamentare. Non annunciare querele che poi non fai. Non mettere in discussione la buona fede di giornalisti di assoluto prestigio. Questo significa preparare il terreno a quel populismo che in realtà è la malattia senile di una democrazia in cui il primato della politica si è esaurito. Il doping principale del Movimento 5 Stelle è esattamente questo. Consiglierei a tutti di rifletterci e di mettere al centro alcune cose chiare. È arrivato il momento di una commissione di inchiesta parlamentare per le quattro banche popolari. Non si può più giocare a nascondino. A Gentiloni diciamo niente giochetti sulla manovrina. Quei 3 miliardi e mezzo di correzione, vorrei ricordarlo, sono frutto delle promesse referendarie, bonus, mance e mancette. Che c'entrano i voucher? Non si può far rientrare, diceva la forgia, dalla finestra quello che è uscito dalla porta. Oltre un milione di cittadini hanno firmato per abrogarli. Tecnicamente questa operazione si chiama furto di referendum. Se non ritirano questo emendamento truffa si cerchino i voti di Denis Verdini. Noi non voteremo la manovra. Abbiamo assistito a una singolare forma di ostruzionismo operata dal partito di maggioranza relativa sulla legge elettorale. Vorrei ricordare sommessamente che chi ci ha messo nei guai e chi si è fatto bocciare dalla Corte Costituzionale quella legge che tutti i corifei della nouvelle del VAG Leopoldina dicevano che prima o poi ce la copierà tutta Europa. Ma come è noto, ripetita Juvent, la storia insegna ma non ha scolari. Oggi ci vengono a proporre una legge che mantiene il 50% di liste bloccate e il resto è affidato alla ruota della fortuna di alleanze locali a geometrie variabili a Catania come a Sondrio. La chiamano coalizione light. Se posso fare una traduzione un po' più ardita significa con Alfano in Sicilia, con Versani in Emilia. Ma questo non è possibile. Do una notizia nemmeno particolarmente originale. Per noi le alleanze si fanno sui programmi e non sui seggi da spartire. Siamo fatti così, non siamo ricattabili. Il PD non farà pesca strascico sui voti della sinistra attraverso un meccanismo truffaldino che sembra partorito da qualche mente raffinata abituata a confezionare vendite all'ingrosso nel retrobottega di qualche macelleria. Appendendo fuori il cartello per i clienti paghi due e prendi uno. Non si fa così. Lo dico a chi sta spacciando questa mente avariata per una nuova magnifica riforma. Le tecniche elettorali hanno a che fare con il funzionamento del sistema democratico. La politica invece ha a che fare con valori non negoziabili. E allora la voglio dire così, come mi viene dal cuore. Scordatevi i voti della sinistra se l'obiettivo è far tornare in Parlamento chi ha ideato il Fertility Day offendendo milioni di donne di questo Paese. Scordatevi i voti della sinistra per chi ha invitato i giovani disoccupati a fare una partita a calcetto anziché trovare un lavoro. Scordatevi i voti della sinistra per chi ha costretto i docenti precari ad essere sottoposti al dominio umiliante di un algoritmo peraltro sbagliato. Scordatevi i voti della sinistra per chi ha pensato, scritto e firmato un progetto di riforma costituzionale dove l'articolo 70 somigliava di più a un geroifico egiziano che ha la legge fondamentale della Repubblica ed è stato anche bocciato dal 60% degli italiani. Scordatevi i voti della sinistra se pensate di costruire l'ennesimo Parlamento di nominati dai capi bastone. Lo abbiamo promesso ai cittadini il 4 dicembre. Il nostro nome parla chiaro. Articolo 1. Per noi la sovranità appartiene al popolo. Se non cambia, utilizzeremo in Parlamento e Fuomi gli strumenti che la Costituzione ci garantisce, chiedendo ai cittadini di firmare contro questo scempio. Ho terminato. Non bisogna mai sottovalutare gli interlocutori, ma nemmeno sopravvalutarli. L'ambizione maggioritaria è stata sostituita dall'ambizione al galleggiamento. Il centrismo oltre la destra, oltre la sinistra, modello Macron, produce un solo sbocco. La destra e le larghe intese. Siamo passati dalla sera delle elezioni. Gli italiani devono conoscere chi è il vincitore. Al comunque vada sarà un successo. A noi tocca battere il centrismo e la stagione dell'arghintese e ridare una speranza a chi non si rassegna alla destra e alle 5 stelle. Una grande sinistra per un centro-sinistra di cambiamento competitivo, sfidante e alternativo al Partito Democratico di Matteo Renzi. Per farlo da soli non bastiamo. La nostra passione non basta. Vogliamo essere la start-up di un'operazione grande che va oltre l'ossessione di uno sbarramento. Caro Giuliano, con la stima l'affetto di sempre, abbiamo il dovere insieme di dare una rappresentanza a questo popolo, a questa moltitudine di solitudini che non trovano un tetto, una rappresentanza, nell'offerta politica di oggi e portarli per mano fuori dalla lunga notte della Repubblica. Il tempo non è una risorsa illimitata. Il tempo non è una risorsa illimitata. Quell'Italia del lavoro, civica, aperta, solidale, democratica, che vuole continuare a battersi. A loro dobbiamo restituire un progetto, un programma, un'occasione di partecipazione popolare, insieme per i tanti e non per i pochi. Grazie.